Ciao a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorret e oggi parliamo del grande fratello Vip in particolar modo di Paolo Brosio e vi chiedo sapete quale sarebbe il colmo per Paolo Brosio essere squalificato per bestegna vediamo che cosa è successo non è passata inosservata un'esclamazione fatta da Paolo Brosio nella casa del grande fratello Vip il giornalista che è entrato da pochi giorni nella casa più spiata d'Italia si è lasciato andare a un'esternazione che di certo non rispecchia il suo modo di essere esternazione simile aveva fatto anche Dennis Dosio e per questo era stato subito squalificato dal grande fratello Vip ora il web chiede la squalifica per Paolo Brosio ma è presto per dirlo in ogni caso non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprire se la produzione prenderà dei seri provvedimenti per l'esternazione fatta e voi che cosa ne pensate scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altri news un grosso abbraccio da Joe Red Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti